Ripartita a marzo, la campagna di screening del colon retto nell'ambito territoriale di Cernusco Lombardone si avvia alla conclusione, ultimo termine per aderire il 24 maggio. L'occasione per il direttore sanitario della TS Brianza, Silvano Lopez, di ricordare che da quest'anno l'invito allo screening è esteso anche ai cittadini ricompresi nella fascia d'età 73-74 anni. Il tumore al colon retto rappresenta la seconda causa di morte per cancro sia negli uomini, dopo quello al polmone, sia nelle donne, dopo quello alla mammella, spiega Lopez. Ringrazio i tanti cittadini che in questi anni hanno dimostrato fiducia aderendo all'iniziativa di prevenzione proposta dall'ATS e ricordo l'importante appuntamento che in questi giorni li aspetta. Aderite con fiducia, lo screening può salvarvi la vita. La campagna nei comuni afferenti all'area territoriale di Cernusco ha interessato 15.348 residenti, in età compresa tra i 50 e i 74 anni. Delle persone invitate hanno già aderito in 7.319 e tra questi circa il 4% è risultato positivo al test e quindi invitato a sottoporsi alla colonoscopia. L'ATS rende inoltre noto che nel corso del 2016 in tutto il territorio di competenza sono stati invitati complessivamente 148.429 cittadini con un'adesione di circa il 50%. A 64 persone è stato diagnosticato il cancro, a 623 un adenoma iniziale e a 293 un adenoma avanzato. Dati importanti poiché la neoplasia del colon retto trae origine molto spesso da un polipo, ovvero una lesione benigna dell'intestino. Un processo che dura anni, pertanto l'individuazione precoce e la conseguente asportazione di adenomi può prevenire la degenerazione neoplastica. L'esame è semplice ed è del tutto gratuito. Nella lettera di invito dell'ATS è contenuto un opuscolo con indicate le finalità del test e le modalità di esecuzione. In caso di negatività il cittadino riceverà a casa una comunicazione scritta e trascorsi due anni verrà successivamente richiamato a ripetere l'accertamento. Se invece il risultato è positivo, verrà invitato ad eseguire un approfondimento mediante colonoscopia da effettuarsi presso uno dei centri che collaborano con il progetto di screening.